Non si piega e non si spezza, Julian Assange torna a parlare, torna a parlare dopo la sua scarcerazione. Lo ha fatto oggi davanti alla Commissione Affari Giuridici e Diritti Umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Le parole di Assange possono fare paura, possono fare paura perché ricordiamo è stato liberato dopo 14 anni, 14 anni in cui è stato tenuto sotto chiave, prima nell'ambasciata dell'Equador a Londra e poi nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. E allora partiamo da qui, partiamo dal servizio di Giuliana Radice. Giuliana Assange rompe il silenzio. Abbiamo seguito insieme le fasi concitate che hanno portato alla sua liberazione, dalle udienze per il ricorso contro l'estradizione negli Stati Uniti fino all'uscita dal carcere lo scorso 25 giugno e fino al lungo volo che lo ha portato in Australia, dove dopo 12 anni di prigionia ha ritrovato la moglie Stella, che lo ha accompagnato sempre, ed i figli che non avevano mai visto il padre in libertà. Oggi, dopo oltre tre mesi di silenzio, Assange è tornato a parlare a Strasburgo, davanti alla Commissione per gli affari giuridici e di diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. L'intervento segue la pubblicazione di un rapporto della Commissione, presentato da un membro del Parlamento, Sunna Eversdottir. Il testo, che verrà votato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, mette in evidenza le implicazioni della vicenda del fondatore di Wikileaks, ed i suoi effetti sulla difesa dei diritti umani e della libertà di giornalismo. È un Assange in ripresa a parlare, un uomo libero che non vuole tacere. Voglio essere totalmente chiaro. Non sono libero oggi perché il sistema ha funzionato. Sono libero oggi, dopo anni di carcere, perché mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Mi sono dichiarato colpevole di aver cercato informazioni da una fonte. Mi sono dichiarato colpevole di aver ottenuto informazioni da una fonte. E mi sono dichiarato colpevole di aver informato il pubblico di quali fossero quelle informazioni. non mi sono dichiarato colpevole di nient'altro. Dopo la dichiarazione su quanto gli è costata la libertà, punta il dito sulle cause della propria prigionia. E non esita a menzionare la CIA, che lo ha ripetutamente preso di mira, come è noto anche alla Commissione per i diritti umani. Nella sua testimonianza, Assange evidenzia la responsabilità di quelle che lui chiama nazioni potenti, che si sentono in diritto di prendere di mira gli individui oltre i propri confini, entità contro quali è impossibile difendersi, a meno che non ci siano forti garanzie in atto e uno Stato disposto a farle rispettare. Un monito alle realtà che si sentono, in qualche modo, patria del diritto. Se l'Europa vuole avere un futuro in cui la libertà di parole e la libertà di pubblicare la verità non siano privilegi di pochi, ma diritti garantiti a tutti, allora deve agire in modo che ciò che è accaduto nel mio caso non accada mai a nessun altro. E tutto questo accade nel cosiddetto mondo libero, nel cuore dell'Europa. E allora, visto che parliamo di Europa, andiamo a Strasburgo, dove abbiamo in collegamento la nostra Berenice Galli. Buonasera Berenice. Buonasera a voi. Ecco, tu sei fra le massime esperte del caso Wikileaks, del caso Assange. Abbiamo sentito le sue parole e vogliamo sentirle tu e sentire il tuo punto di vista su quello che è stato e quello che potrebbe essere, perché appunto Assange è quello che sta indicando il problema. Sì, dunque, prima di tutto, io come altre volte divido, suddivido un attimo sia il caso personale da quello politico. Ovviamente vedere Julian Assange vivo e in salute, soprattutto da parte mia, dopo tutti questi anni, insomma, il faticoso reportage di questo processo farsa, è stato ovviamente un momento importantissimo. Quindi anche ha colpito molto il fatto che partisse già adesso dall'Australia con un volo e si recasse di nuovo in Europa, ma come appunto abbiamo accennato, lui non si è sentito di rifiutare questo invito del Consiglio d'Europa, perché il Consiglio d'Europa è stato il primo che si è mosso in realtà per condannare la persecuzione ai danni di Julian Assange nel gennaio 2020, quando presente John Shipton, il padre, e Nils Meltzer, rappresentante della commissione sulla tortura dell'ONU, era stata fatta questa dichiarazione. Quindi lui si è sentito di venire qua, ha parlato molto, ha risposto a moltissime domande, ha detto anche delle cose molto importanti, delle cose anche toccanti, insomma che toccano moltissimo, soprattutto adesso la situazione dell'Europa, dei nostri paesi, della violazione dei diritti. Lui ha detto come rispetto a quando lui è stato messo a tacere, adesso diciamo che è tornato fuori, si rende conto di come sia peggiorata la situazione della libertà d'espressione, c'è ancora più di prima segretezza, c'è ancora più di prima l'impunità. Quindi diciamo che nonostante questi anni di incarcerazione, lui si è reso conto di molte di queste cose. Per altri versi una mia impressione che mi sento tranquillamente di fare è che a volte, ma come è umanamente normale, sembra che Assange sia stato ovviamente come ibernato, cioè lui a tratti mi pare che parli veramente come una persona che 15 anni fa viveva questo mondo attuale, quando invece non credo che abbia coscienza di molti dei cambiamenti che abbiamo subito, perché quando lui al Consiglio d'Europa dice guardate dovete muovermi perché altrimenti è troppo tardi nella difesa dei diritti umani, io penso che lui abbia perso il filo che siamo già molto oltre e che l'Europa non è più in grado di difendere questi diritti e quindi sì, noto appunto che ci sono dei momenti in cui probabilmente lui deve un attimo aggiornarsi sempre che lo voglia. Io mi auguravo in realtà che lui non si esponesse ancora, non parlasse, sicuramente deve recuperare una salute fisica e psicologica devastata, nonostante che si mostri molto bene, ha parlato benissimo come ha sempre saputo fare lui, però evidentemente lui ha necessità, un'urgenza invece di continuare a parlare della sua situazione perché col patteggiamento lui non ha più modo di prendere in mano il suo caso e evidentemente gli unici che possono farlo sono appunto dal Consiglio d'Europa, pensando forse di ottenere qualcosa, domani l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa voterà questo rapporto della parlamentare islandese e vedremo cosa ne emergerà. Io sinceramente oltre a a volte a sentire lui poi con quella sua modalità insomma un pochino naif come ammette anche lui di avere, reputo che mi sono sembrati parecchio ibernati anche i membri del Parlamento che sono intervenuti perché mi sembrava di essere un'aliena in un luogo dove non ci rendiamo conto di cosa ci sta succedendo intorno. C'è un momento in cui una invece ha toccato anche la situazione del Libano, dell'invasione di Israele in Libano e a quel punto era passato molto tempo, Assange ha detto io sono provato da sono stanco da tutte queste domande, ha passato la parola al codirettore di Wikileaks Christine Rafson, quindi non so se l'ha fatto perché ovviamente lui è entrato in un'istituzione iper schierata, io vi invito a andare a vedere il sito del Consiglio d'Europa, si parla solo di ricostruire l'Ucraina, c'era una manifestazione antirussa fuori dal Consiglio d'Europa, lui è entrato un pochino nella bocca del leone, diciamo la verità, quindi non so se queste frasi caute le ha dette con condizioni di causa o se veramente ha bisogno di fare un aggiornamento su quello che è successo in questi ultimi anni. E vedremo che cosa accadrà, che cosa farà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Voglio andare da Germana Leoni, buonasera Leoni. Buonasera, buonasera a voi. Eccoci, allora abbiamo sentito le parole di Berenice Galli, abbiamo sentito le parole di Julian Assange, nel corso di questa puntata vi faremo sentire ancora le parole di Assange. Volevo chiedere dal tuo punto di vista come pensi che andranno le cose, perché lui non sta zitto, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Parole come pietre, quelle che sono arrivate oggi, insomma il segnale è abbastanza chiaro anche su quello che è l'appello alle coscienze, l'appello ai giornalisti, lui dice ognuno faccia alla propria parte, poi vedremo se succederà oppure no. Che cosa ci puoi dire, come la vedi? Ma guarda, io devo dire che sono invece abbastanza sollevata, perché Berenice ha ragione assolutamente con quello che dice, ma mi aspettavo anche qualcosa di peggio. Invece ho avuto la sensazione che Assange fosse ritornato. Ha lanciato delle accuse che sono gravissime, intanto ha preso di mira direttamente la CIA, ha preso direttamente di mira Mike Pompeo, quindi addirittura ha sceso nei particolari, ha fatto nomi, ha detto che addirittura durante la sua tenuta alla direzione della CIA hanno tentato di assassinarlo, per cui ha veramente lanciato delle accuse, ha ricordato che hanno violato tutti i suoi diritti, che hanno spiato i suoi avvocati, addirittura che hanno cercato di avere il DNA del bambino, del figlio appena nato, di sei mesi. Insomma, quindi siamo veramente a dei livelli che fanno paura, essere in un'Europa così fa davvero paura, ma Assange secondo me, ecco quello che mi ha colpito ancora più delle cose che lui ha detto, che ripeto mi hanno sorpreso perché ho rivisto un Assange che aveva voglia di lottare e già questo è qualche cosa, ma la sua risposta, come ha risposto a delle domande? Allora quando gli hanno chiesto per esempio se si aspettava all'inizio che sarebbe successo tutto questo, lui qui ha lanciato un'accusa gravissima perché ha detto ma sì certo, sapevo di imbarazzare profondamente l'establishment statunitense, mi aspettavo dei problemi, ma sicuramente non al livello dei problemi che ho avuto e poi ha detto io sono stato ingenuo perché la mia ingenuità è stata quella di fidarmi della legge e questo è veramente grave, lui ha detto io ero convinto comunque che avrei avuto comunque la giustizia dalla mia parte e invece no, io mi sono orroneamente fidato dalla legge, poi ha accusato anche i media perché a un certo punto ha la domanda, ma cambieresti qualcosa, guardate che pesantissimo quello che lui ha detto, sì probabilmente sceglierei diversi media. Ci arriviamo a quel punto, ci arriviamo, voglio andare anche parlando di media a Franco Fracassi, buonasera Fracassi, abbiamo parlato delle notizie che sono state diffuse grazie a Wikileaks, grazie a Julian Assange, parliamo anche dei media che poi in buona parte con rare eccezioni se ne sono liberati, l'hanno abbandonato quando è stata ora di raccontare la sua storia, si è letto pochissimo e voglio chiedere a te in questa fase in cui c'è una grande fame di verità, abbiamo una guerra a pochi chilometri da noi, ce n'è un'altra un po' più lontano in Medio Oriente, insomma di Julian Assange e di questo modo di fare giornalismo c'è bisogno, dacci il tuo punto di vista su quello che è stato il suo intervento e anche su questa situazione in cui appunto si richiederebbe un certo tipo di giornalismo. Allora sull'intervento mi sembra che è stato già detto in maniera eloquente quel che lui ha detto, insomma le posizioni ha preso, è confortante insomma vederlo in forma perché c'era veramente molto bisogno di lui e del tipo di giornalismo che fa, perché il giornalismo che fa lui non lo fa nessun altro, non fosse altro perché gli altri non hanno, non sono in grado, non vogliono, non lo sanno fare per tantissimi motivi. Lui diciamo riappare in un momento secondo me in cui il giornalismo ha toccato il fondo, semmai si possa toccare il fondo, forse andrà ancora più a fondo, non so, non riesco a immaginarmi qualcosa di peggio di così. È un giornalismo quello di oggi in cui non ci si protegge nemmeno di più tra colleghi. Ieri è stata assassinata dagli israeliani una giornalista siriana, l'hanno bombardata a casa sua, viveva a Damasco, quindi un posto che teoricamente non dovrebbe essere un territorio di guerra eppure gli israeliani hanno tranquillamente bombardato la sua casa come se nulla fosse, non mi sembra che nessuno ne sia indignato e nessuno ne abbia parlato. È una cosa continua, nel senso che proprio non credo, tranne i rarissimi casi che il giornalismo sia morto, così come lo abbiamo conosciuto nemmeno troppi anni fa e per cui il lavoro di Assange sarà un lavoro, non so se impossibile, però molto complicato perché lui si trova in un deserto, deve riuscire nel deserto a trovare quelle poche forme di vita che possano sostenerlo, che possano fargli la sponda, però che sono tutte sparse in mezzo al nulla. Non lo so, io sul giornalismo oramai sono pessimista, penso che sia, non dico sia morto il giornalismo, ma poco ci manca. Parlando di giornalismo, di quello che sta accadendo, di quello che avremmo il diritto di sapere, e voglio citarvi le parole di Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, mentre vi faccio vedere alcune immagini di Assange. Gli scoop sul Vietnam, ha detto Peter Gomez, negli anni 70 erano scoop applauditi, bene, bravi, bis, siamo tutti giornalisti, poi arriva un signore australiano con la sua organizzazione e entra in possesso di documenti, li dà a chi li può pubblicare. I giornali li pubblicano, vendono un sacco di copie, fanno un sacco di soldi e poi ad un certo punto si dice che Assange era una spia, si dice che Assange lavorava per i russi perché pubblicava esclusivamente documenti che mettevano in cattiva luce gli Stati Uniti. Si dice che grazie ad Assange sono uscite delle email che riguardano Hillary Clinton e che grazie a quelle email Trump ha vinto le elezioni. Ma chi lo dice, dice sempre Gomez, si dimentica che è stato proprio Trump, il Presidente degli Stati Uniti, che ha deciso di applicare nei confronti di Assange non le leggi che si applicano ai giornalisti ma quelle che servono agli Stati Uniti per preservarsi in caso di guerra, l'Espionage Act. Qua vediamo il New York Times che parla appunto del caso Assange. Noi giornalisti, dice Peter Gomez, abbiamo un unico dovere, pubblicare notizie vere che abbiano un interesse pubblico. Noi dobbiamo difendere il diritto dei governati di sapere cosa fanno i governanti nell'ombra. e questo ha fatto Assange, ha raccontato, ha fornito informazioni alla grande stampa e poi l'abbiamo visto cosa è successo. Voglio quindi farvi vedere, sentire Julian Assange. Il fatto che la CIA abbia preso di mira me, la mia famiglia e i miei soci attraverso aggressivi mezzi extra giudiziali ed extra territoriali fornisce una rara visione di quanto potenti organizzazioni di intelligence si impegnino nella repressione transnazionale. Tali repressioni non sono uniche. Quando le nazioni potenti si sentono in diritto di prendere di mira individui oltre i loro confini, quegli individui non hanno alcuna possibilità, a meno che non ci siano forti garanzie in atto e uno Stato disposto a farle rispettare. Senza questo nessun individuo ha la speranza di difendersi dalle vaste risorse che uno Stato aggressore può impiegare. La libertà di espressione e tutto ciò che ne consegue si trova a un bivio oscuro. Temo che se istituzioni come il Consiglio d'Europa non si svegliano di fronte alla gravità della situazione, sarà troppo tardi. Germana e Leone, l'abbiamo detto, tutto questo accade nel cuore dell'Europa, nel mondo libero, non accade nella cattiva Russia. Ecco, su questo parlando anche della percezione che hanno le persone, perché noi adesso abbiamo parlato di professionisti dell'informazione, però poi ci sono i lettori, le persone che la chiedono l'informazione e poi si stupiscono quando magari così improvvisamente le agenzie di stampa iniziano a battere le notizie riguardanti Assange, quando era scomparso completamente dalla radar. Beh sì, certo, ma infatti il lettore è completamente disorientato e non ha modo di difendersi secondo me, perché oramai così come non c'è più opposizione, se tu passi da tutte le reti televisive, così come tutti i giornali, con qualche eccezione, questo va detto, praticamente noi siamo, trasmettono tutti a reti unificate, c'è l'imposizione, la dittatura del pensiero unico. Quando prima Franco diceva che è morto il giornalismo, sta morendo il giornalismo, attenzione, la morte del giornalismo è la morte della democrazia però, noi su questo dovremmo veramente interrogarci, perché diversamente non lo so che buio abbiamo davanti. L'appello di Julian Assange che mi è piaciuto quando una delle domande che gli hanno fatto è stato, ma noi tu sei un attivista o un giornalista? E lui ha detto una cosa sacrosanta, ogni giornalista deve essere un attivista della verità, però questo non succede più oramai, per cui veramente noi abbiamo l'impegno di doverci, quello che Julian Assange ha detto alla fine, ha chiuso il suo intervento dicendo keep fighting, continuate o continuiamo a combattere. Abbiamo parlato dell'informazione e Fra Cassi dice io ormai nel futuro dei media ci credo poco o non ci credo proprio e voglio citare un passaggio del discorso di Assange e poi voglio chiedere appunto una tua considerazione Franco. Quattordici anni fa ha detto l'esercito degli Stati Uniti ha arrestato uno dei nostri presunti informatori, soldato semplice Manning, un analista dell'intelligence statunitense di stanza in Iraq. Contemporaneamente il governo degli Stati Uniti ha avviato un'indagine contro me e i miei colleghi. Il governo degli Stati Uniti ha inviato illegalmente aerei di agenti in Islanda, ha pagato tangenti ad un informatore per rubare il nostro prodotto di lavoro legale e giornalistico e senza processo formale ha fatto pressione su banche e servizi finanziari per bloccare i nostri abbonamenti e congelare i nostri conti. Il governo del Regno Unito ha preso parte da alcune di queste rappresaglie e ha ammesso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di aver spiato illegalmente i miei avvocati nel Regno Unito durante questo periodo. In definitiva queste molestie erano legalmente infondate. La criminalizzazione delle attività di raccolto di notizia è una minaccia per il giornalismo investigativo ovunque. Noi siamo abituati, grazie anche a te i tuoi interventi, a parlare del mondo dietro le quinte dei servizi segreti che si muovono, di questa realtà che se uno la descrive a uno che non se ne occupa mai dice sì vabbè ma state parlando degli 007, state parlando dei film. Però queste sono le cose che poi emergono, questa è la sostanza. Ecco dal tuo punto di vista oltreoceano negli Stati Uniti il caso Assange viene come dire, si percepisce la portata di questa questione oppure no perché manco compare, manco compare in fondo nelle testate giornalistiche, in fondo le pagine dei giornali. Insomma gli Stati Uniti sono come, noi siamo lo specchio degli Stati Uniti quindi se ne parla poco da noi se ne parla poco anche negli Stati Uniti quindi non so quanto si percepisca insomma sì sicuramente ci sarà una piccola fetta di statunitensi intellettuali che o insomma attivistiche, battaglieri che sono rimasti informati sul caso Assange, che penso la stragrande maggioranza degli Stati Uniti forse nemmeno sanno chi sia Assange. Il punto che è quello che ha descritto Assange è sempre accaduto. La grande differenza è che una volta c'erano i media che denunciavano queste cose e quindi i vari governi nel mondo o non accettavano una serie di cose oppure prendevano quantomeno una serie di precauzioni, non è che si sdraiavano come fanno adesso, adesso non essendoci nessun tipo di diga veniamo semplicemente investiti dall'acqua. Però voglio se posso criticare quello che ha scritto Gomez perché secondo me è uno dei punti malati del giornalismo. Lui ha scritto che un giornalista deve preoccuparsi di pubblicare la verità e io non sono d'accordo nel senso non che bisogna pubblicare menzogne ma purtroppo il lavoro del giornalista adesso nel migliore dei casi è questo. Mentre invece il giornalista deve andare a cercare la verità, c'è una bella differenza. Uno dei guai del giornalismo perché è morto il giornalismo è perché i giornalisti sono come quei personaggi diciamo quegli asceti che si piazzavano sotto gli alberi aspettando che cascasse in testa la mela per potersela mangiare e più o meno il circo mediatico funziona così, i giornalisti sono in attesa che qualcuno gli passi le informazioni. Può essere un magistrato, un poliziotto, un politico o chiunque altro ma c'è sempre qualcuno che gli passa le informazioni e quindi loro sono totalmente a ricasco degli altri. Non andandosi a cercare le informazioni sanno benissimo, il potere sa benissimo che la sfanga sempre perché riesce in qualche modo a occultare le informazioni che non devono uscire e tanti giornalisti non se le vanno a cercare, anche se le mostra di fronte a tutti loro manco se ne accorgono perché nessuno gliele porge e questo fa sì che sia facilissimo imbrogliare i media. Per cui ci sono giornalisti che sono anche in buona fede però sono totalmente incapaci di fare il mestiere perché appunto attendono di pubblicare qualche cosa, qualcosa che gli arriva e questo è proprio la malattia del giornalismo, la principale. Il discorso di Gomez era anche in un contesto un po' più ampio però ho capito che cosa vuoi dire. Lo capisco però e oramai è diventato, a volte dei modi di dire fanno trasparire la realtà e c'è gente che oramai si abitua e non capisce che si è abituata alla sottomissione. C'è da dire che il fatto quotidiano come la verità e pochi altri, Bio Blu è una di queste eccezioni, è fra quelli che hanno dato spazio ad Assange, hanno come dire continuato a parlarne quando tutti gli altri non ne parlavano, questo per appunto per dovere di cronaca. Parlando di cronaca vogliamo chiudere con Giuliana Assange, prima ringraziamo i nostri ospiti Berenice Galli, Germanna Leoni e Franco Fracassi, Peter Gomez è invitato qui per dare anche una risposta, magari sarebbe interessante un confronto con Fracassi, chiudiamo dicevo sentendo di nuovo le parole di Assange. I giornalisti non dovrebbero essere perseguitati per aver fatto il loro lavoro, il giornalismo non è un crimine, è un pilastro di una società libera e informata.